Tra l'allero tra l'allà smerdo pure nell'aldilà. Questa ragazzi ve la devo assolutamente raccontare. Non crederete mai a cosa cazzo mi è successo. L'altro giorno ero al parchetto a bullizzare i bambini marocchini e fin qua direte beh cosa cazzo c'è di male. Ebbene ve lo dico io cosa cazzo c'è di male. Dopo un po' mi siedo sulla panchina e inizio a sentire un forte prurito con odore cacasbura provenire dal mio deretano. Sento le palle che frollano come dei sburosi ciccioli. Era quel fottuto di burger. Dalla rabbia cominciai a spingere il più forte possibile il mio buco del culo ma non venne fuori niente. Ad un certo punto sentì una fontana di diarrea e piscio invadere la smerdosa bocca di quel maledetto burger che dall'impatto volò via e si schiantò contro un lampione. Ma non era finita. Dietro un albero mi stava aspettando quel coglione di tacos con quel suo fottuto amico di Eugenio che con le loro palle rotanti crearono un vortice di aria sburosa che mi risucchiò dentro. Ora sono all'ospedale di merda. Burger tacos sappiate che mi vendicherò molto presto. Vi spruzzerò un getto di vomito smerdoso così potente in tutti i vostri buchi che lo avrete al posto del sangue nelle vene. Vi farò mangiare tanta di quella merda che neanche vostra madre quella cagna ieri notte. E riguardo ad Eugenio con lui farò i conti dopo.